In medicina e in estetica siamo saturi di tecnologia. Casi così diversi come dolore, infiammazione, cicatrici, fratture, rimodellamento corporeo, ringiovanimento facciale o vaginale, possono essere trattati con una tecnologia unica, il sistema di radiofrequenza INDIBA. Naturalmente non stiamo parlando di qualcosa di magico, semplicemente questi e altri casi hanno un fattore in comune. L'ambiente cellulare biologico nel quale si verificano. Il proprio equilibrio interno da cui dipende la vita. Ciò che fa INDIBA è regolare e stimolare le cellule dei tessuti per fare in modo che si comportino come fanno regolarmente, prendersi cura dei propri processi metabolici e inoltre rendere questi processi ottimali per agire in maniera ancora più efficiente e ordinata. Ma vediamo come funziona passo per passo. Alla base di tutto c'è una corrente elettrica che lavora a una frequenza specifica di 448 kHz. È un flusso di elettroni che diventa un movimento ionico all'interno del corpo. Vediamolo più da vicino. Il tessuto, la cellula, la sua membrana e i recettori. Questi ultimi sono come dei semafori. Regolano gli scambi ionici fra l'interno e l'esterno della cellula. Perciò, quando la corrente raggiunge questi recettori, il movimento ionico nei tessuti viene stimolato e mette in moto una complessa sequenza di reazioni, proprie di ogni tipo di cellula, in aggiunta alla regolazione dell'ambiente che le circonda. In altre parole, il sistema INDIBA raggiunge il suo risultato regolando il lavoro delle cellule con l'applicazione di una corrente elettrica. Ora aumentiamo la potenza di questa corrente per ottenere effetti termici in aggiunta agli effetti elettrici. Che cosa si ottiene? Si aumenta il flusso sanguigno nella zona trattata. In questo modo arriva più ossigeno, nutrienti e altri elementi del sistema immunologico che sono fondamentali per ottenere i risultati che offre la radiofrequenza INDIBA. Riassumendo, abbiamo un duplice effetto, quello elettrico che stimola l'attività cellulare e quello termico che fornisce nutrienti, accelera le reazioni metaboliche e ripristina i tessuti. Come abbiamo detto in precedenza, questo è utile in molti casi e questo perché, a seconda del tessuto e del tipo di cellula, si ottengono risultati diversi. Un risultato è la biostimolazione, che consiste nel promuovere la proliferazione e differenziazione cellulare. Un altro è l'azione antiproliferativa, ovvero inibire o addirittura distruggere cellule o modulare la risposta infiammatoria. Grazie a ciò, con il sistema INDIBA, possiamo fermare la formazione di tessuto adiposo nei trattamenti estetici, facilitare la formazione di collagene, cartilagine o tessuto osseo in patologie del sistema muscolo-scheletrico nei trattamenti medici. Possiamo rimodellare l'addome o rigenerare articolazioni. In medicina è fondamentale avere delle prove che garantiscono l'efficienza e la sicurezza della tecnologia. Effettivamente abbiamo i numeri che supportano l'efficienza della tecnologia INDIBA. 35 anni di ricerca accademica avanzata in biologia molecolare, preclinica e clinica. 170 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali. 9 tesi di dottorato e centinaia di migliaia di casi trattati a livello mondiale. In INDIBA ci dedichiamo a sviluppare una propria tecnologia che riunisce i più alti standard scientifici e tecnici del mercato. Per maggiori informazioni visita il nostro sito.